Che idea meravigliosa! Un'auto fatta di bolle! Che idea meravigliosa! Un taxi fatto di bolle! Non hai nuovi giocattoli da aprire, ma ci sono ancora tantissime cose da prendere negli altri box. Ciao! Io ho un amico. Si chiama Sketch. Che idea meravigliosa! Un taxi fatto di bolle! Delizioso! Grazie, signor Incubo, signor Rompinocce, signor... Oh, yeah, oh, yeah! Grazie, signora, yeah, yeah, yeah! E ora... Il giorno! Ehi, dove vai? Torna subito qui! Che cosa stai facendo, orsetto? Volevo prendere quel piumino che è caduto lì.